Un saluto dal Tg della Mobilità. Da oggi ripristinato il percorso della linea 557 in via degli Opimiani. Il tragitto resta comunque in parte modificato anche in funzione della nuova isola ambientale del Quadraro Vecchio, in corso di realizzazione. La linea infatti non torna a percorrere via De Lentuli, da via Tuscolana in direzione Piazza Cardinali. La linea non può proseguire verso via De Lentuli e così da via del Quadraro percorre via Selinunte, via Cartagine, via Opita-Oppio, via degli Opimiani, via Tuscolana, via Scribonio-Curione, via Centocelle, via degli Angeli e via Camillo Manfroni. E tutto appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.